Massimiliano Fadini, un alto voto della TV, quindi non ha bisogno di presentazioni, è un esperto, è uno che gli piace molto il campo nel quale lui si dedica da tantissimo tempo, abbiamo fatto diverse cose insieme e continueremo a farle, perché l'univocità degli intenti, ma soprattutto la serietà, la competenza con la quale si prendono questi problemi ci accumuna. Fadini Massimiliano, Energia, è uscita una nuova normativa europea, che non ne parleremo oggi, ne parleremo profondamente, che ha mandato a casa la storica normativa europea, la 291-CE, che ha fatto scatturire poi tutte le leggi a catena, quindi la 192, la 392-195, la 311-2006, la legge 13-2007, il piano straccio della regione Piemonte e tutte le altre regionali. L'abbiamo mandata in pensione, è arrivata questa nuova normativa, nelle prossime puntate vi spiegheremo i dettagli, cosa è cambiato e come si modifica, però a noi quello che ci interessa è che questi sgravi fiscali restano ancora del 55%, cosa dice la legge, cosa pensano i produttori, voi producete soprattutto alluminio, producete vetri, producete quantità di materiali che sono primarie importanze per le finestre e per le porte, quindi cosa dicono e quali sono le novità? Sì, io ho proprio una novità fresca di sabato scorso perché si è svolto a Milano l'Assemblea Nazionale dell'UNCSAL, che è l'associazione del seramentissimo alluminio, ed era presente il sottosegretario Luigi Casero del Ministero delle Finanze, il quale ha aperto fortunatamente uno spiraglio per una proroga ancora per il 2011 per queste detrazioni fiscali, che vedendo i dati insomma hanno portato un fatturato in un momento di crisi importante, perché in quattro anni l'indotto ha fatturato più di 11 miliardi di euro e solo nell'ultimo anno più di 3 miliardi di euro, ricordo che queste detrazioni permettono di riqualificare il patrimonio esistente e ottenendo uno sgravio dal proprio IRPEF in 5 anni su un monte di costo del 55%. Finalmente dopo i primi anni dove questa normativa era poco conosciuta, negli ultimi anni ha preso piede e diciamo che tutto l'indotto dell'edilizia ne ha sicuramente tratto molto beneficio. Adesso l'auspicio è che tutte le aziende che ne fanno parte e tutti gli enti facciano massa critica per far capire allo Stato che questa è una modalità per far ottenere uno sgravi alle persone, riqualificare un tessuto di edifici italiani che è molto energivoro e soprattutto dare da lavoro alle aziende in un momento di difficoltà. Certificazione c'è per quanto riguarda i serramenti? La certificazione della marcatura CE dei serramenti è entrata in vigore a febbraio del 2010, sostanzialmente tutti i serramenti che oggi un singolo acquirente, piuttosto che un'impresa, piuttosto che un ente pubblico installa nel proprio edificio devono essere marcati CE e devono essere redatti da un piano di controllo della produzione che ne certifica la qualità e soprattutto i certificati di laboratorio. Quindi per ottenere il 55% oltre a fare tutte le altre normative bisogna, se si cambiano i serramenti, avere questi certificati di cui parlava ma ci torneremo nelle altre puntate, ma questo perché si rendono conto che bisogna avere questi dati. Certo.